Sono anni che io denuncio il pericolo della guerra civile. Se andiamo avanti così, continuando a usare le parole come armi, prima o poi qualcuno metterà le armi al posto delle parole. Bisogna interrompere quella spirale, riconoscere che il processo politico che abbiamo iniziato con il cosiddetto bipolarismo all'italiana è fallito e cercare un percorso nuovo, tutti. Ribadisco che né io né l'Italia Valori intendiamo giustificare in alcun modo il gesto scriteriato di un malato di mente che deve essere assicurata alla giustizia e rispondere di ciò che ha commesso. Ma intendo anche non associarmi alla ipocrisia, tanto al chilo e al perbenismo di maniera, di chi vorrebbe, per colpa di questo fatto grave che è avvenuto, giustificare invece le politiche governative, che io ripeto sono politiche che hanno creato disagio sociale, allarme sociale, riprovazione, tant'è che ancora questa mattina ci sono 10.000 persone in piazza a termini merese.